Non so se ridere o piangere, francamente, perché tale pavidità del Governo, tale ipocrisia, tale presa in giro da parte del Governo non ce l'aspettavamo. Da professori del diritto poi, meno che mai. Pure le pietre sanno che il prossimo 29 di ottobre c'è l'udienza preliminare. Noi vogliamo sapere se quando c'è l'udienza preliminare il Governo si vuole costituire o no sin dall'udienza preliminare o vuole fare Ponzio Pilato. La questione è molto semplice. Ai sensi di legge la parte lesa si può costituire sin dall'udienza preliminare. E ciò perché? Perché la legge vuole dare la possibilità a chi si sente lesa di poter intervenire sin dalla prima fase processuale per commemorie, istanze, conclusioni. Perché, sententosi lesa, vuole essere risarcita. La domanda allora è, ma questo Governo si sente lesa o no dal fatto che la mafia ha trattato con le istituzioni e viceversa? In secondo luogo, quel che noi vogliamo sapere, questo Governo vuole l'accertamento della verità o no? Se vuole l'accertamento della verità non ha bisogno di una notifica per dirla. Lo può dire o lo deve dire subito. Si vuole costituire parti civili o no? O aspetta la notifica. Ma che presa in giro è questa? La verità è una e una sola. Che questo Governo lo fa e si comporta in questo modo o per paura, o per ignavia, o per complicità. E io vorrei ricordare che tra i rinviati a giudizio ci sono politici di primissimo piano, di allora e di ora. Li cito alcuni. Mannino, Dell'Utri, Gargani, Conso e soprattutto Nicola Mancino, che invece di correre dal giudice, correva dal Presidente della Repubblica per non andare dal giudice. E questa è una vergogna di Stato che questo Governo complice sta coprendo. Grazie. 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 Grazie.